Buon pomeriggio e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un percorso a piedi da Soraga fino a Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, in base a quanto ci mettiamo, in base alle nostre energie. E seguitemi. Abbiamo percorso circa due chilometri e ci troviamo nel punto più suggestivo tra Soraga e Pozza di Fassa. Adesso cominciamo a salire piano piano e ci troveremo di fronte più in là ad un crocevia dove c'è appunto un ponte molto caratteristico. Continuiamo per la ciclabile che sembra un'autostrada e costeggiamo un... Un campeggio attrezzatissimo. E lì sopra le varie cime. Sarebbe bello anche in città avere una ciclabile del genere. Eccoci arrivati, siamo sotto il comune. A Pozza di Fassa e abbiamo percorso circa 3 chilometri 850 metri. Percorso agevole, naturalmente da fare sia in bici, sia in e-bike e naturalmente come escursione trekking. E spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando iscrivetevi al mio canale. A presto. Ciao. 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 Ciao.